Belsito Hotel Le Due Turri A mano calzati A circa 200 metri dall'uscita a Vellino Est Della Napoli Bari www.belsitohoteldueturri.it Profughi per strada a chiedere le lemosi Nella fuga di giovani africani Verso i centri di prostituzione Dietro la tratta di migranti disperati Potrebbe nascondersi una sola regia Averte Callomele della Caritas Un'organizzazione criminale che sfrutta Sempre più numerosi profughi Presenti per strada a tendere la mano E' l'ora di denunciare questa disumana Tratta di schiavi Averte Callomele che lancia un appello Alle autorità competenti Questa è una sensazione che già da tempo Abbiamo percepito Non credo che queste persone Questi ragazzi si siano auto-organizzati Ed effettivamente è redditizia Perché percepiamo che ognuno di loro Insomma sui 30 euro al giorno Se li porta via E questa ci deve far pensare Perché se effettivamente invece E' un popolo che è stato organizzato Quindi è un movimento di persone Che è a proda in città Che lavora tutto il giorno E che la sera poi deve consegnare il raccolto Allora questo preoccupa Qui lo Stato deve essere forte Deve essere incisivo Non è possibile Non è possibile rendere schiavi Siamo nel 2000 e passa E abbiamo ancora gli schiavi Cioè basta Basta La dignità dell'uomo va protetta Di qualsiasi genere E allora qui lo Stato deve essere Su appello all'istituzione Alle forze dell'ordine Di indagare su questo tipo di fenomeno Eh ma è necessario Che sia valorizzato Sempre di più E non possiamo restare inerti Inerti perché poi C'è chi si agrichisce E poi c'è chi invece Ne paga le sofferenze Sospetti anche su alcuni allontanamenti Di ragazza Soprattutto di nazionalità nigeriana Dai centri di accoglienza Anche in questo caso Si nasconderebbe la mano lunga Della criminalità organizzata Giovani immigrate reclutate Cos'è di prostituirsi Il problema è che Quella è un'altra forma di schiavitù Ancora peggiore E bisogna essere attenti Perché poi le malattie E tutto quello che ne porta Cioè bisogna fare anche campagne di prevenzione A questo punto Coppa che dovrebbero forse anche denunciare Tempestivamente certi casi Dovrebbero denunciare Essere attenti Perché poi Le persone interessate Non hanno problemi Ad andare A trovare agganci A vedere il modo come Poi raggiungere il proprio obiettivo Allora l'attenzione Soprattutto qua È sempre degli organi Di polizia Perché poi Ogni tanto si scopre La casa a luci rosse Ma qua ci sono Situazioni che Sempre di più hanno In degrado Allora Il nostro piccolo Contesto Che si dice verde Si dice tranquillo Ma come stiamo vedendo Soffre di un malessere Proprio notivo Allora 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 Allora